Ho chiamato un cliente per parlare con urgenza, ripeto urgenza, ripeto urgenza, in una maniera originale, però significa che loro continuano a rompere. Ehi Gioia, ascoltami un attimo, siccome non è la prima volta voi, ci sono state altre persone. Ma voi per quale motivo l'avete fatto? Per quale motivo l'avete fatto? Per i soldi iniziali? Allora, tu l'hai fatto solo per le 1000 euro o per l'ultimo i soldi quelli grossi? Io penso che voi l'avete fatto per i soldi finali, giusto, quelli grossi? Sì. Ecco. Io stesso, perché io non vedo niente, io non vedo niente cosa sei, per i mecenari pensamoniare in oggi, per i visiti veniamo a pagare in oggi. E perché non parli con l'avvocato che è venuto da te l'avvocato? A dirti di che cos'è bisogno? Ma picco giuricite! Non so, cosa non ti faccio scendere? Che stai? Non m'acciaio! Non m'acciaio! Non m'acciaio! Kids, allora posso andare da proprio soccorso? Ah! Sì, mi è messo da caraggio, allora! Che schiena! Che schiena! Che schiena io, dalla firma senza pesce! Un famone! Tipo tutte che mi ha impressionati! Eh? No! Prendi da pesce, perché parevo una tira quando ci sterano un quadro!